Certo che con me puoi fare tanto, farti conoscere, informare i tuoi clienti, far sapere le tue offerte. Eh sì, io che sono il tuo volantino sono molto prezioso per la tua azienda. Da adesso tu che mi mandi in giro puoi anche comunicare con me grazie a ComunicaVolantino. Non ci credi? Chiama 800 180 768 e scopri come www.comunicavolantino.it Consegniamo il tuo volantino e ne certifichiamo la consegna.